Scoberta dai carabinieri della locale stazione a Curti, in provincia di Caserta, una bisca clandestina e denunciate per gioco d'azzardo 16 persone, sequestrate carte da gioco e quasi 8.000 euro in contanti, al momento dell'ingresso i carabinieri si sono trovati di fronte a una vera e propria bisca clandestina, contando di tavolo da gioco professionale, carte francesi ed italiane e soldi in contanti. I giocatori, tutti italiani, provenienti dalle province di Caserta e Napoli, sono stati sorpresi attorno al tavolo mentre giocavano a Zecchinetta. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri è stato il sospetto di un continuo via-vai di persone, soprattutto nelle ore serali e in una zona priva di esercizi commerciali di attrazione, che li ha indotti ad effettuare un mirato controllo che gli ha poi consentito di scoprire così la bisca clandestina, sequestrato il locale utilizzato, il cui gestore è stato poi denunciato anche per esercizio di gioco d'azzardo. Da Curtin, provincia di Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it